I controlli sui Green Pass partiti lunedì dopo l'entrata in vigore della Carta Verde rafforzata, oggi un primo bilancio della Prefettura di Potenza. Vediamo quali sono i dati nel servizio di Eugenio Montesano. 770 controlli al giorno, oltre 2.300 nei primi tre giorni dall'entrata in vigore del nuovo modello di Green Pass, quello rafforzato che si ottiene con vaccinazione o guarigione dal Covid. Sono i numeri dell'attività di controllo svolta in provincia di Potenza da Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale, presentati dal Prefetto del Capoluogo Michele Campanaro nel corso della riunione del Comitato Provinciale sulla Sicurezza e l'Ordine Pubblico. 17 le sanzioni combinate per mancanza di Green Pass, 41 per mancato utilizzo della mascherina. Sotto la lente anche le attività commerciali, 479 controlli e 12 sanzioni per mancanza di Green Pass o mancato rispetto del distanziamento. I numeri dei controlli, spiega il Prefetto, sono superiori in termini percentuali alla media nazionale, mentre le multe sono nella media. Si può fare anche di più e si può fare meglio. Direi che si deve fare di più, tendenzialmente verso l'obiettivo delle sanzioni zero, che vorrebbe significare veramente tanta responsabilità da parte della nostra comunità. La Prefettura sta valutando assieme al Sindaco di Potenza Mario Guarente anche l'introduzione dell'obbligo di mascherina all'aperto fino all'epifania, almeno nel centro storico del Capoluogo Lucano, molto affollato durante le feste. E non si escludono misure anche più stringenti, che potrebbero rendersi necessarie qualora dovesse proseguire la corsa del Covid in Regione, con l'aumento dei contagi e la riapertura delle terapie intensive. Ci sono delle realtà anche nella provincia, dove c'è una crescita del dato epidemiologico, quindi l'esigenza di una maggiore attenzione da parte delle forze di pulizia.